Atleti e dirigenti società sportive in vetrina presso l'auditorio del Mariglio Museo di Spinetta Marengo. Infatti i protagonisti di brillanti stagioni sportive hanno ricevuto i giusti riconoscimenti nel corso della cerimonia annuale di consegna delle benemerenze coni per mano della delegata Alessandrina Bruna Balossino e dei fiduciari Claudia Longhi, Giancarlo Rapetti, Claudia Vergagni e del coordinatore tecnico Stefano Moressa, oltre che di personalità istituzionali Alessandrina e regionali. Fra i dirigenti premiati Francesco Romeo, della FIDAL, Andrea Picotti, della FIZ, Ruggiero Rizzi e della FIRE che hanno ricevuto la stella di bronzo al merito sportivo. Per le società premiate il tiro a volo Pecetto, il gruppo arcieri Marengo di Pozzolo, la junior bolle di Casale. Fra gli atleti la campionessa di scheleton Valentina Margaglio, medaglia d'argento al valore atletico, Giulio Rimondotto, medaglia di bronzo per la motonautica. Premi speciali coni a Maddalena Grazzano per Luigi Luparia, Ludovica Cavo, settima ai campionati del mondo 2022 Under 20 nei 400 stacoli e Lorenzo Roselli, campione italiano di kickboxing. Tra i tecnici, importante è una ricicenza per il maestro dell'Accademia Roussousanda di Alessandria, Gianluca D'Agostino, che in occasione dei suoi 40 anni di attività, ha iniziato infatti nel 1982, conseguendo sempre brillanti risultati, ha ottenuto la palma di bronzo al merito tecnico ed è stato premiato dall'assessore allo sport del comune di Alessandria, Vittoria Oneto. Un riconoscimento che vuole rimarcare come l'impegno e il lavoro costanti portano in ogni attività a ottimi risultati. La passione poi fa il resto.